Sabato ci sarà la fortezza firma fede della presentazione del suo libro La guerra che si può vincere con al centro la sua vicenda personale per quanto riguarda le endometriosi. Sì, diciamo che questo non è mai nato come un libro, è nato proprio come un racconto che serviva a me, serviva per buttare fuori tutti i sentimenti, le cose che avevo dentro e poi per una serie di eventi e casualità è diventato un libro, ci ho lavorato, l'ho diviso in capitoli e mi hanno detto che avrebbe potuto essere d'aiuto a tante donne affette di endometriosi e per questo mi sono decisa e con un po' di coraggio ho messo un po' in piazza tra virgolette la mia vita privata, però con molto piacere se posso aiutare qualcuno. L'endometriosi è una malattia terribile, è una malattia molto invalidante, se ne sa troppo poco, se ne parla troppo poco con la ricerca ha fatto troppi pochi passi avanti. Complicata come malattia, niente da dire, perché sono cellule di tessuto che normalmente stanno dentro l'utero, che impazziscono e vanno nei vari distretti corporei, però dove vanno sanguinano perché la loro caratteristica è quella mensilmente di sanguinare e l'infertilità legata a questa malattia. La guerra che si può vincere perché le battaglie le ho raccontate, ma la vittoria più grande per me è stata un miracolo e quindi riuscire a rimanere incinta, peraltro naturalmente, e avere la mia bambina. Ecco, a livello proprio di diagnosi siamo molto indietro, a volte ci vogliono anni, non viene creduta come una malattia. Non è normale sentire così tanto dolore durante le messuazioni, non è normale sentirlo durante l'ovulazione, non è normale avere rapporti sessuali dolorosi. Quindi nel caso rivolgetevi però a un centro specializzato perché ancora oggi si fa fatica nella diagnosi. A me ci sono voluti otto anni, ma è la media. E quindi io volevo essere utile, parlarne, sensibilizzare, ma informare perché l'endometriosi non è solo un mal di pancia.